Allora ragazzi siete pronti? Vi ricordo che è una sfida maschi contro femmine il punteggio è 1 a 1. Pronti? Via! Com'è? Com'è? Già da rilavito nei ragazzi? Non c'è, non c'è Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Ciao estate! Ciao! 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 Ciao!